Ciao, io sono Yamili e se sei qui sul mio canale già da un po' di tempo o se sei nuovo, a me piace moltissimo disegnare e da sempre e ho avuto per tanto tempo una tavoletta senza schermo. L'altro mese è stato il mese del mio compleanno e grazie agli sconti di primavera sul sito ispi pen ho potuto comprare una nuova tavoletta anche perché quella vecchia aveva quasi 11 anni e non ce la faceva quasi più e perciò ho preso questa qui la artist 13.3 pro che ora vedremo insieme come un sbossing che ho registrato nei giorni scorsi a dopo iniziamo subito a vedere cosa c'è dentro la scatola la prima cosa che troviamo è la tavoletta che vedremo più tardi insieme dopodiché abbiamo da togliere questo e troviamo le prese quella europea quella tedesca e quella che se non sbaglio è quella americana più la parte a cui si deve attaccare quella prescelta dopodiché c'è lo stencil che è la nostra base per appoggiare la tavoletta poi abbiamo due contenitori una una pezza per pulire la tavoletta un altro contenitore che faccio vedere dopo e per ultimo questa che è la penna il contenitore della penna come dicevamo questa qui è la penna da questa parte vi stanno le punte dei ricambio dall'altra parte invece c'è la penna vera e propria che non ha la batteria come potete notare non ha nessun buchetto per la per il caricatore e che potete usare anche questo per appoggiarla quando lavorate per finire ci sono i due pacchetti nel primo vi sta il guanto che viene dato in dotazione con la tavoletta e altri libri tra cui quello delle istruzioni nel secondo vi sta una serie di cavetti per attaccare la tavoletta al computer che ha tre cavetti e ora attaccheremo la tavoletta al computer qui c'è l'appoggio su cui appoggeremo la tavoletta che bella grande e poi ci sono i cavetti uno questo qui è più piccolo e quello per la tavoletta poi c'è questi due da attaccare nelle USB questo qua è quello che gli darà l'energia la tavoletta e poi abbiamo l'HDMI che adesso monterò dopo aver attaccato i cavetti a computer andate su ispi pen e scaricate il driver così da avere questo programmino qui dove potrete sistemare le varie impostazioni della tavoletta e voilà ora la tavoletta dopo aver acceso il pulsante laterale è pronta all'uso e possiamo iniziare a lavorare a qualcosa con il mio fedele programma preferito Clip Studio Painting come ad esempio questo bellissimo disegno qua in questo momento stai vedendo una piccola speed molto molto veloce sul mio ripasso di un Kibi di Mew Lory del Tokyo Mew Mew realizzato proprio con la nuova tavoletta la tavoletta si presenta molto comoda mi piacciono molto i pulsanti laterali perché sono veramente comodi perché grazie al programma che vi ho fatto vedere nel pezzo precedente si possono scegliere quali quali strumenti utilizzare poi la tavoletta è molto comoda al tatto con la penna non è dispiacevole pensavo forse più dura anche perché essendo la prima tavoletta con schermo che ho non mi aspettavo fosse così comoda e interessante l'unica cosa perciò questi erano i pro trovo davvero molto comodo lavorare su questa tavoletta ho dovuto fare delle modifiche perché nel video che avete visto poco fa non l'avevo ancora fatto ho fatto diventare la tavoletta come secondo schermo e così da avere il primo schermo che è quello del computer come spazio per tenere delle reference sui disegni che sto disegnando in quel momento e anche se voglio fare delle live avere OBS attivo lì sopra come da avere clip studio painting solo aperto sulla tavola sullo schermo della tavoletta e questi sono i i pro perché questa tavoletta è davvero molto utile e mi piace particolarmente gli unici contro controvato ma che sono solo dei difetti piccoli e sistemabili più facilmente sono il fatto che la penna ha i pulsantini sopra e quando ti arriva ci ha già preimpostato uno per il click destro e l'altro su gomma e penna beh, l'ho avuto dei problemi perché senza volerlo schiacciavo questo tastino e mi sono presi 5 secondi di panico perché non riuscivo più a far venire la penna continuava a cancellare e allora poi ho riuscito a disattivare grazie all'applicazione che è del driver e così adesso ho disattivato i pulsanti della penna e trovo che sia molto molto meglio per me poi magari qualcuno riesce a usare i tasti sulla penna e si trova meglio così altra cosa piccola proprio sto ancora prendendo un po' la mano con l'ingrandimento ma va bene l'unica cosa è lo scorrimento per qualche motivo strano quando tu vai a appiggiare con la penna sulla barra per far scorrere il disegno questa se non vai proprio appiggiare deciso diciamo non lo senti non resta incastrato lì invece con tutte le altre tutte le altre parti del programma che vai a toccare se vuoi cambiare il pennello vuoi cambiare la patita vuoi cambiare non lo so quello che ti serve lo sente subito l'unica cosa quello piccolo piccolo difetto lì che non riesce a sentirti subito il tuo interesse di far scorrere il disegno in su e giù o in laterale perciò questa è l'unica cosa poi c'è un'altra piccolissima che forse perché io sono un po' sbalata l'altro giorno ho voluto mettere i cavetti in modo diverso ho messo prima il cavo rosso del il cavo rosso della batteria diciamo della tavoletta poi il cavetto nero perciò le due USB e poi l'HDM per qualche motivo sconosciuto funzionava tutta la tavoletta ma poi non l'avevi a toccare proprio il punto in cui volevi disegnare niente questa non andava non la sentiva poi l'ho spenta la tavoletta ho rimesso i cavetti come facevo prima perciò mettevo quello nero poi quello rosso e poi l'HDM ed è tornato tutto a posto però io dico magari uno che se la prende e gli viene molto più panico e dico oddio se sei già sei già rotta che cosa ho fatto? ho sbagliato io? e allora se vi capita così staccate il nuovo tutto e riprovate a riattaccarlo che forse sicuramente andrà a posto per il resto è davvero una bellissima tavoletta io che ero abituata alla tavoletta senza schermo mi sto trovando molto molto bene e la consiglio vivamente a chi volesse comprare una tavoletta con un prezzo medio alto perché effettivamente se volete una top di gamma vi costa molto 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 di più e la qualità è ottima perciò la consiglio vivamente al prossimo video ciao ciao bye bye ciao